Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di modem e lo facciamo in compagnia di lui Fritzbox 6850 LTE 4G un dispositivo appunto come avete capito dal nome è nato apposta per le connessioni LTE 4G quindi per funzionare ha bisogno che al suo interno gli andiamo ad inserire una sim dati che sia una sim dati FWA quindi con dati giga illimitati o anche la classica sim che abbiamo nei nostri smartphone non importa l'importante che all'interno di questa sim ci sia una connessione dati lui è un dispositivo ovviamente che diventa utile nelle abitazioni come nel mio caso dove utilizzo la rete FWA perché quella diciamo cablata è molto molto scarsa almeno fino ad oggi è così poi in futuro ovviamente dovesse arrivare la fibra allora tutto cambierà ma nella mia zona dove non ho la fibra questa tipologia di connessione diventa davvero molto molto interessante questo dispositivo ovviamente compatibile con qualsiasi operatore che sia wind team vodafone illiad fastweb cioè non importa di chi sia la sim che andiamo ad inserire lui ovviamente la utilizzerà e distribuirà attraverso la rete wifi tutti i dati che abbiamo al suo interno per chi ancora non lo sapesse ma ormai credo che tutti lo conoscano il marchio fritz è un marchio tedesco un marchio che produce appunto modem e router extender quindi tutti i prodotti riguardanti il mondo internet e wifi questo marchio è molto diciamo conosciuto per quanto riguarda la qualità dei suoi prodotti dei materiali del design dei suoi prodotti e soprattutto secondo me è una cosa da non sottovalutare è il software che viene installato il software si chiama fritz os ed è veramente fantastico per quanto riguarda la sua semplicità di utilizzo ma anche per tutte le possibilità di analisi e di opzioni che possiamo andare a configurargli cioè veramente un software strepitoso un'altra cosa interessante sono le sue app dedicate appunto disponibili sia per ios che per android come vedremo dopo che ci permettono di comunicare con lui e andare a configurare analizzare tante funzioni dei dispositivi fritz e allora questo dispositivo vi arriva all'interno di questa confezione troviamo ovviamente lui con il suo alimentatore un cavo lan piatto e non tondo per quanto riguarda la sezione del cavo e poi troviamo tutti i manuali tra cui il manuale quick start che ci permette di avviare in maniera rapida il dispositivo perché veramente in pochi secondi siete online basta veramente poco e poi troviamo questo altro cartoncino molto interessante perché abbiamo tutte le password e un qr code che ci permetterà di associare velocemente tutti i dispositivi alla nostra rete wifi creata appunto dal nostro fritzbox quindi questo cartoncino è veramente molto molto importante anche il qr code diventa molto utile per semplificarci la vita nella connessione allora per quanto riguarda le sue caratteristiche lui è un dispositivo che ha due antenne orientabili e questo è una cosa molto interessante perché avere le antenne esterne ci permette di andare a ricevere la rete 4g della bts quindi dell'antenna che trasmette verso la nostra abitazione in maniera ottimale e poi tramite il software appunto fritz os è possibile andare anche a fare un allineamento delle antenne quindi una configurazione precisa di dove posizionare le antenne rispetto alla nostra bts io vi consiglio per vedere dove la bts rispetto alla vostra abitazione di utilizzare lte italy che vi dà ovviamente le indicazioni perfette sulla mappa di dove è l'antenna rispetto alla vostra abitazione così che potete capire e dove direzionare queste antenne e poi tramite il suo software fritz os date l'ottimizzazione per quanto riguarda la regolazione e l'inclinazione dell'antenna è possibile sia metterlo appoggiato che appeso a una parete quindi è possibile installarlo in tutte e due le modalità abbiamo per quanto riguarda le porte di connessione quattro porte LAN gigabit poi abbiamo una porta classica per il telefono analogico e poi abbiamo l'ingresso della sim mentre poi sul fianco abbiamo quello che è una porta usb 3.0 queste sono tutte le sue porte di connessione mentre per quanto riguarda quello che è il suo hardware al suo interno abbiamo un modulo 4g lte di categoria 4 lui ovviamente non è un dispositivo top di gamma è un dispositivo di categoria media per quanto riguarda appunto le sue caratteristiche hardware mentre a livello software di costruzione secondo me è tanta tanta roba però appunto essendo un prodotto secondo me di fascia media per quanto riguarda l'hardware abbiamo questa categoria 4 che ci dà la possibilità sì di utilizzare il 4g lte ma ha dei limiti ovviamente il limite per quanto riguarda il download è di 150 megabit che però vabbè per il 4g secondo me 150 possono anche starci anche perché tipo dove abito io più di 150 non si va mai in 4g ovviamente però la cosa che più penalizzante che potreste riscontrare che la stessa sim che voi inserite in uno smartphone di ultima generazione e poi la inserite all'interno di questo modem potreste vedere una differenza di velocità per quanto riguarda la velocità di download perché perché appunto utilizzando questo modulo di categoria 4 mentre magari lo smartphone recente ha un modulo di categoria superiore quindi magari un 6 cosa succede che il modulo di categoria 4 hanno una coppia più bande cioè praticamente lui prende una banda della BTS che vi trasmette e utilizza quella banda una sola indipendentemente quale vada ad agganciare ma ne aggancia una mentre un modulo di categoria 6 aggancia due bande e quindi le va diciamo a sommare e crea una banda molto più larga quindi questo ovviamente da delle prestazioni maggiori per quanto riguarda appunto quello che vedrete poi per quanto riguarda il download è questo secondo me è un peccato anche se ovviamente qua abbiamo un dispositivo che sia questa categoria per quanto riguarda il modulo però è un dispositivo con una stabilità di connessione veramente pazzesca e con queste antenne riuscite a prendere il segnale ovunque voi lo mettiate all'interno dell'abitazione non è da sottovalutare perché se avete anche un dispositivo con un modulo di categoria superiore quindi mettiamo un categoria 6 però non avete delle antenne direzionabili magari andate comunque a perdere quello che sono le performance riguardanti il segnale che vi arriva dall'esterno per quanto riguarda invece il wifi abbiamo un wifi di categoria 5 quindi di tutto rispetto per un modem di questa fascia di prezzo fascia di prezzo perché comunque questo dispositivo come vedremo dopo si pone secondo me in una categoria appunto a metà non è un top di gamma e non è un diciamo un entry level è un dispositivo che essendo dispositivo fritz quindi di qualità costruttiva e di stabilità di connessione su software lo rendono veramente un dispositivo secondo me fantastico appunto sotto questi aspetti che non sono da sottovalutare anche se ha all'interno un modulo di categoria 4 allora per configurarlo è semplice basta digitare nella barra di ricerca fritz.box e andare a selezionare la lingua e a questo punto basta seguire i pochi passaggi di configurazione partendo dalla password che troviamo sul cartoncino incluso in confezione e in pochi passaggi siete già operativi con il vostro fritzbox 6850 LTE una volta configurato l'avete configurato per il vostro operatore veramente avete già la rete pronta per essere utilizzata e se volete mantenere tutti i vostri dispositivi già connessi alla stessa rete che avevate magari con un altro modem basta rinominare la rete che in questo caso sarà fritz 6850 e la sigla che poi viene dopo rinominarla con il nome della rete che avevate prima così tutti i dispositivi non dovranno essere riconfigurati riassociati no basta ovviamente rinominare la rete e siete già online anche con tutti i dispositivi telecamere Alexa piuttosto che qualsiasi cosa rimarrà già configurata perché vedrà la stessa rete c'è voluto veramente poco per configurarlo e renderlo subito operativo adesso andiamo a vedere quello che sono le caratteristiche del suo software che ovviamente è uno dei suoi punti di forza fritz os e anche quello che sono le sue applicazioni e per fare questo però ovviamente devo prendere il mio mac per accedere a quello che è il software del nostro fritz box 6850 qualsiasi dispositivo fritz per quanto riguarda modem e router dobbiamo andare a digitare fritz box dobbiamo inserire la password fritz che è quella che troviamo sul cartoncino che ci viene dato in dotazione e una volta che siamo all'interno della schermata principale per quanto riguarda appunto il nostro dispositivo abbiamo ovviamente tutti i dati per quanto riguarda la connessione vedete la velocità in download velocità in upload quindi 149 49 per quanto riguarda l'upload e tutto quello che riguarda le connessioni se andiamo su internet e facciamo monitor online qua abbiamo ovviamente tutto quello che è il grafico sia del download che dell'upload poi abbiamo il contatore online per quanto riguarda appunto i dati ricevuti inviati le connessioni quindi tutto quello che riguarda il consumo che possiamo andare ovviamente a limitare se dovessimo avere appunto una sim giga con dati non illimitati potremmo andare a utilizzare e modificare appunto qua le opzioni che diventa ovviamente una cosa molto molto utile da fare poi possiamo andare ovviamente qua a rimodificare se cambiamo operatore cambiamo il provider internet vedete anziché win the 3 posso andare a scegliere un altro operatore quindi si riconfigurerà per quanto riguarda appunto le impostazioni su quello che è il nuovo operatore interessante anche la possibilità di selezionare le bande che vogliamo utilizzare per sapere che bande vengono trasmesse dove abitate voi dalla vostra bts più vicina che è quella che trasmette appunto verso casa vostra dovete utilizzare il sito lta italy e potete andare a selezionare le bande o se no lasciate su automatico e ci pensa lui a fare tutto qua abbiamo ovviamente tutte le possibilità di regolazioni le vedete per quanto riguarda ovviamente sia i pv6 che i server dns e tutte queste cose qua abbiamo i filtri per quanto riguarda il parental control in una cosa utile ovviamente poi abbiamo altri profili d'accesso dove possiamo andare anche a limitare le impostazioni di priorità quindi potremmo andare anche a decidere su certi dispositivi dare dei limiti di prestazioni quindi limitare quello che è l'utilizzo la velocità tutte queste cose e poi importante qua sotto abbiamo informazioni LTE vedete io sono connesso a un'antenna 4g in mezzo abbiamo quello che sono i dati mi da anche la distanza che circa 900 metri l'antenna rispetto a casa mia mentre in mezzo abbiamo tutti i dati di trasmissione trasmessi poi abbiamo ovviamente qua sempre tutte le configurazioni elenco delle reti vedete in questo momento sono collegato a la rete 4g LTE quindi mi fa vedere che sono collegato a quella rete lì come abbiamo detto una sola perché solo a una banda si connette lui quindi vedremo solo un pallino verde poi scheda sim ci darà i dati della nostra scheda sim ricezione questo è un particolare interessante vedete avvia guida allineamento andando a fare avvia guida allineamento ok potremmo andare a spostare le antenne per andare a diciamo modificare quello che è la ricezione vedete che adesso i dbm sono stati modificati perché perché ho spostato le antenne se adesso io le vado adesso a rialzare vedete che i dbm sono cambiati ancora allora ovviamente più i dbm sono bassi maggiore sarà la performance non ragionate che più i dbm sono alti più il segnale sarà forte no al contrario più i dbm sono bassi più l'antenna sta ricevendo in maniera corretta quindi più i dbm invece sono alti più il segnale sarà debole verso appunto il nostro modem questo è un dato da non sottovalutare e avere queste antenne esterne ci permette di fare questo orientarle nella maniera corretta per sfruttare al 100% il segnale della rete 4g che arriva dalla bts verso il nostro modem facciamo fine guida allineamento e la funzione di allineamento verrà conclusa poi abbiamo rete locale dove abbiamo la possibilità ovviamente di vedere la nostra rete domestica quindi che sia le connessioni mesh quindi gli extender che vedremo prossimamente perché è possibile associare degli extender in maniera super semplice con due passaggi andiamo ad associare un dispositivo che estende la rete ed estende la rete che abbiamo qua quindi non sarà un extender con un nome diverso con cui dovremmo accedere a un'altra linea perché non è un extender classico ma un extender con connessione mesh quindi proprio un prolungamento di quello che è la rete che abbiamo qua quindi creare una rete mesh all'interno della nostra abitazione è fantastico perché ovunque ci spostiamo avremo anche su più piani la connessione massima e tutto mantenendo la stessa connessione quindi non dovremmo passare con il telefono o con il computer a un'altra rete creata appunto all'interno della nostra abitazione ma sarà sempre questa rete che viaggia all'interno della nostra abitazione prossimamente vi farò appunto vedere ad associare un dispositivo mesh sempre fritz a un router fritzbox è veramente semplice e vi cambia la vita avere una rete mesh all'interno di un'abitazione soprattutto su più piani o magari anche solo all'interno di un appartamento di 90 metri quadri per esempio se il router è dalla parte opposta quindi non è in centro all'appartamento ma è nell'estremo dell'appartamento dall'altra parte abbiamo comunque una stanza tanti muri da attraversare la rete mesh è fantastica poi abbiamo il wifi qua abbiamo ovviamente la possibilità di quello che è la configurazione wifi abbiamo tutti i dispositivi connessi vedete che in questo momento ho connesso il mio macbook e ho connesso il mio iphone ci dice sotto che rete wifi è connessa vedete in questo caso ha selezionato in automatico la rete 5g perché la rete 5g ovviamente è più performante per quanto riguarda il portare dati anche se è meno performante nel perforare quello che sono gli ostacoli però ovviamente lui valuta quello che è meglio utilizzare qua vedete fritz repeater perché appunto io ho collegato un dispositivo di ripetizione mesh che è connesso sulla rete 2,4 come vi ho detto lo vedremo prossimamente comunque qua abbiamo tutte le possibilità qua abbiamo anche i canali radio che possiamo andare a selezionare noi manualmente e non fare fare in automatico appunto al dispositivo per quanto riguarda le connessioni wifi per collegare un dispositivo a questo fritzbox è semplice allora se abbiamo un dispositivo che sfrutta vps basterà cliccare il tasto qua sopra vps connect anche sul dispositivo che andremo ad associare faremo la stessa cosa e i due dispositivi comunicheranno e saranno operativi comunicheranno in maniera semplice se invece dobbiamo associare un dispositivo che ne so uno smartphone alla rete wifi che abbiamo creato nuova quindi non abbiamo mantenuto quella vecchia andando a sostituire il nome basterà andare a leggere il QR code che abbiamo sul cartoncino che ci viene dato in dotazione e saremo subito connessi quindi senza digitare password né niente verrà creata e memorizzata la rete wifi all'interno del nostro telefono o tablet o qualsiasi altro dispositivo sia con una fotocamera che lega un QR code e poi come ultima cosa volevo farvi vedere le sue app disponibili sia per us che per android che ci danno veramente una marcia in più per quanto riguarda l'utilizzo dei dispositivi fritzbox secondo me sono fatte benissimo e molto molto utili allora le due app sono my fritz che ci dà la possibilità di andare a vedere il nostro modem infatti se io adesso vedete ho due modem fritz uno che in questo momento non è connesso che vedremo prossimamente in un altro video e questo che è quello connesso infatti allo sfleghino verde se io clicco sull'ingranaggio ho l'accesso a quello che è il mio modem fritz quindi ho tutte le impostazioni base che posso vedere perché poi andando a fare accedere all'interfaccia utente leggendomi il face id cosa succede che ho la possibilità di poter modificare tutte le impostazioni come se stessi usando il pc come abbiamo visto prima o il mac quindi abbiamo tutte le impostazioni identiche vedete ed è veramente fantastico come funziona bene questa app adesso non ve la sto a far vedere perché è quello che abbiamo visto prima qua però fatto dal telefono veramente molto molto utile pratica e che funziona in maniera molto molto stabile come è molto molto stabile la connessione che abbiamo con i dispositivi fritzbox poi l'altra applicazione che invece dobbiamo andare a scaricare si chiama wlan sempre di fritz ed è questa qua ci fa vedere i dispositivi connessi al nostro fritzbox quindi vedete io in questo caso ho connesso il mio dispositivo iphone perché l'applicazione installata nel mio iphone se io vado a fare misura rete a questo punto mi farà vedere la qualità wifi tra il mio dispositivo e il fritzbox e sta andando circa 400 megabit per secondo questa non è la velocità dati della rete internet sia chiaro questa è la velocità della rete tra modem e telefono per quanto riguarda il wifi quindi vuol dire che in questo momento ovviamente essendo vicini è molto performante perché abbiamo non ci sono muri non c'è niente siamo qua praticamente attaccati abbiamo queste performance poi uscendo da questa schermata abbiamo la possibilità di vedere ovviamente i dati per quanto riguarda il dispositivo in questa l'altra applicazione vedete iphone e sotto vedete che c'è fritz repeater 600 che è il dispositivo che c'è connesso a lui per quanto riguarda appunto la rete mesh che vedremo però in un altro video perché già questo sta diventando non lungo lunghissimo che poi allo stesso tempo vediamo qua vedete ripetitori qua possiamo andare ad associare i ripetitori mesh in questo caso ce n'è già associato uno posso andare ovviamente associarne più di uno in base a quello che appunto la nostra abitazione quindi queste applicazioni sono davvero utile e fantastiche per quanto riguarda le performance la stabilità della rete internet all'interno della nostra abitazione quindi ragazzi questo è lui il fritzbox 6850 lte 4g adesso parliamo del prezzo allora lui è un dispositivo che è disponibile su amazon costa circa 200 euro per come sapete il prezzo a volte scende perché amazon magari fa applicare dei coupon sconto comunque il prezzo ogni tanto è anche più basso se cercate un router 4g lte con una stabilità veramente impeccabile che è quella data dai dispositivi fritz e un sistema operativo veramente ben fatto che funziona davvero bene e con un design e materiali veramente top questo è il dispositivo che fa al caso vostro sicuramente un router di fascia media interessante e se questo mio video in cui ho portato la recensione del fritzbox 6850 lte 4g vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove portatemi tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante il drone tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube ciao al prossimo video